Parte l'Erasmus italiano, questa è la storia di Alessia che ha scelto di lasciare il Nord per studiare al Sud. Antonio Farnè. Qual è la prossima lezione? La prossima lezione è diritto dell'istruzione. È un percorso controcorrente quello di Alessia, inversamente proporzionale a quasi il 30% degli studenti del Sud. Da Bergamo, città dove studia e risiede, si è trasferita a Reggio Calabria. È il primo caso di Erasmus italiano. Alessia ha 23 anni, per i prossimi 4 mesi studierà all'Università Mediterranea della città sullo stretto. Io frequento il corso di scienza della formazione primaria, mi trovo molto bene, sono stata accolta bene sia dalle figure che lavorano qui in università che dagli studenti. Erasmus quindi non è sull'Europa. Il programma per eccellenza di mobilità legata allo studio assume anche una dimensione nazionale, grazie a un finanziamento di 10 milioni da parte del Ministero e Alessia, a suo modo, è una pioniera. È un po' un viaggio che sarà valorizzato, spero, dalla mia esperienza. Ad esempio, all'Università di Bergamo ho avuto già modo di conoscere molti professori meridionali che hanno dimostrato di essere persone molto competenti. Bentornata al Sud per Alessia è anche un ritorno alle origini. La mia famiglia è originaria della Calabria e quindi per me questa esperienza si lega alle mie radici. Il futuro è lontano, ma quello di Alessia, chissà, potrebbe essere ancora controcorrente. Abbiamo sentito il rettore dell'Università di Reggio Calabria che ci dice l'importanza del progetto. Ascoltiamo. Siamo molto soddisfatti della risposta che questa prima sperimentazione di Erasmus italiano sta dando. L'entusiasmo e la passione con la quale i primi giovani hanno aderito ed hanno avviato le loro attività costituiscono sicuramente un buon viatico. La contaminazione dei saperi è giusto che avvenga non soltanto verso l'estero, così come è previsto dall'Erasmus selezionale, ma anche verso i paesi e le regioni italiane. L'enorme ricchezza delle stesse deve essere patrimonio dei nostri giovani.